All'apertura del ponte Margherita io penso che sta in una fase di ultimazione dei lavori io spero nel giro di un mese, un mese e mezzo. Si va verso la fase finale dei lavori di messa in sicurezza del ponte Margherita di Dragoni ma ci vorranno ancora giorni prima di riaprire definitivamente le previste due corsie una per ogni senso di marcia il cui passaggio sarà consentito solo ai mezzi non superiori ai 35 quintali non è la soluzione definitiva ma è certamente un passo in avanti anche se il comitato proponte auspica l'apertura totale della struttura facendo leva sulle prove di carico che furono effettuate alcuni mesi fa ora saranno i tecnici a mettere nero su bianco e a valutare e poi a decidere speriamo prestissimo l'apertura dell'importante viadotto che rappresenta la vera porta del Matese ma che tempi prevede l'amministrazione provinciale? Noi lo abbiamo chiesto al consigliere Gianluigi Santillo per saperne di più. All'apertura del ponte Margherita io penso che sta in una fase di ultimazione dei lavori io spero nel giro di un mese, un mese e mezzo di aprire questo benedetto ponte che è la porta del Matese per noi è estremamente importante come provincia anche ieri abbiamo fatto un ulteriore incontro con comitati, imprenditori e amministratori dell'Alto Casertano e stiamo accelerando l'iter procedurale di ultimazione. Purtroppo a me ha un quintalaggio abbastanza ridotto ma comunque apriremo e poi successivamente andremo avanti per ultimare la restante parte. Ecco, ma al momento quali sono i motivi che stanno frenando l'apertura? Ma i motivi, vabbè, quest'anno c'è stata molta pioggia quindi anche il maltempo è solo una questione di tempi ordinari anche vista la spicolosità dell'opera perché la messa in sicurezza di un ponte non è come mettere in sicurezza una strada su terraferma insomma è una cosa, è un'opera abbastanza anche particolare quindi è meglio prendere qualche giorno in più anziché qualche giorno in meno. Vogliamo ricordare, alla fine si tratterà di due corsie però è limitato a un certo, diciamo, peso dei mezzi? Diciamo che è limitato a due corsie, alle macchine a 35 quintali se non erro quindi abbiamo dovuto fare questo perché c'è stato un certificato nell'ufficio tecnico della provincia dove ha testato anche se ci sono stati il comitato che ha portato una documentazione che dimostrava una capacità di portata superiore a quello che noi effettivamente apriamo ma tecnici che dovevano firmare questa possibilità di aprire il ponte a una portata maggiore non se la sono sentiti di accettare una cosa del genere. E quindi possiamo dire che, diciamo, nei primi giorni di marzo potrebbe venire l'apertura? Io mi auguro ma voglio aggiungere qualche giorno in più. Dal ponte Margherita di Dragoni è tutto.